Crop circle compare a Prudentpolis, Brasile meridionale La segnalazione relativa alla comparsa di un crop circle è arrivata dal famoso ricercatore UFO brasiliano Aegevaerde, che ha pubblicato su Youtube le immagini dellagroglifo comparso nel comune di Prudentpolis, che si trova nello stato del Paranacon con accento acuto, Brasile meridionale. Il pitogramma, o agroglifo, è composto da due grandi cerchi concentrici che si incrociano tra loro formando il disegno della famosa Vesica Pescis, dove allinterno vi è un altro grande cerchio. Ai bordi di uno dei due anelli, troviamo altri quattro cerchi che variano nella loro grandezza. Per ora non si sa nulla in merito alla creazione di questo pitogramma, anche se vi è una certa scetticità in merito alla manufattura o firma, che sembra appunto non essere di origine aliena. Ma molto umana. Per ora ci limitiamo a farvi vedere le immagini dellagroglifo, ma non ci esprimiamo sul fatto se sia reale o meno. Attendiamo comunque ulteriori news ed analisi sulla formazione, che verranno effettuate dal ricercatore Gewaerde, in modo che si possa sapere di più sulla sua autenticità. Grazie a tutti.